deve essere proprio arrivata la bella stagione perché come puoi vedere sempre più utenti mi stanno chiedendo come fare a fare una manutenzione periodica del proprio pc e quindi sostanzialmente le pulizie di primavera senza utilizzare alcun programma esterno ed essendo in grado di capire da un lato se il pc va incontro a potenziali problemi ma dall'altro anche di velocizzarlo al massimo senza fare appunto alcun ricorso a programmi esterni avevamo già in parte trattato l'argomento ma adesso lo andiamo a rivedere nella versione potenziata migliorata e corretta del 2024 e allora se ti senti pronto iniziamo a mio avviso sono vere due cose la prima è che windows dispone al suo interno di tutti gli strumenti necessari e sufficienti ad effettuare una manutenzione completa del sistema la seconda cosa è che però oltre a sapere quali sono esattamente le operazioni da compiere bisogna conoscere anche l'ordine giusto in cui queste operazioni vanno effettuate al fine di ottenere il risultato ottimale se ben ricordi più di un anno fa avevo pubblicato un video con cinque comandi fondamentali che ci consentivano di fare una manutenzione periodica del nostro computer tuttavia nel frattempo i sistemi operativi si sono evoluti e non nascondo che si è evoluta anche la mia tecnica e quindi quel video è diventato un po vecchio e va sicuramente aggiornato e allora andiamo a rivedere insieme quali sono i nuovi comandi del 2024 per effettuare una manutenzione completa al tuo sistema windows 10 oppure windows 11. la prima operazione da fare sarà una scansione con il tuo antivirus e o con il tuo anti malware naturalmente ne esistono di diversi tipi ma io ti mostrerò come fare questa operazione con windows defender che è naturalmente presente su tutte le macchine windows 10 e windows 11 per effettuare una scansione con windows defender ti basterà cliccare sul pulsante start scegliere la voce impostazioni sul lato sinistro scegliere privacy e sicurezza aprire sicurezza di windows e quindi fare clic su protezione da virus e minacce troverai questo pulsante che si chiama analisi veloce ti basterà cliccarlo per avviare un'analisi molto rapida del tuo computer come vedi sul mio computer ci impiega solo pochi secondi perché è un'operazione che faccio periodicamente se invece è un'operazione che non hai mai fatto sul tuo computer ti consiglio in ogni caso di farla ma vedrai che durerà un pochino di più perché avrà più file da andare ad analizzare al termine dell'operazione potrai chiudere questa finestra e passare alla fase 2 questa fase prevede un semplice clic su questa voce quella che si chiama prestazioni e integrità del dispositivo una volta aperta verranno analizzate le tre aree chiave del sistema windows e in particolare la capacità di archiviazione ovvero lo stato di salute dei nostri hard disk la sezione app e software ovvero quella relativa ai programmi installati ed infine il servizio ora di windows che va a verificare la coerenza della data e dell'ora impostate sul nostro sistema nel caso in cui ci venga segnalato qualche errore noterai che questo badge diventerà di colore giallo oppure rosso in caso di problemi gravi e per vedere le soluzioni consigliate ci basterà fare clic su queste freccioline qui in modo da vedere che cosa dobbiamo fare per riparare il nostro computer sono certo che l'operazione numero 3 ti stupirà infatti quello che dobbiamo fare dopo aver chiuso le due finestre che avevamo aperto sarà un riavvio del sistema mi raccomando però non un arresto del sistema ma proprio un riavvio questo perché il riavvio è l'unica operazione che va completamente ad azzerare il kernel il kernel è lo strumento del sistema operativo che si occupa di fare da interfaccia tra l'hardware e i programmi che vengono lanciati se siamo soliti sempre spegnere il nostro sistema e non riavviarlo mai sappi che una serie di errori possono andare ad accumularsi nel kernel e a crearci problemi questo almeno fino a quando il nostro computer non verrà riavviato e quindi andiamo a fare un clic sul pulsante start clicchiamo sul pulsante di arresto e scegliamo a questo punto la voce riavvia il sistema attendiamo alcuni secondi che il nostro sistema si riavvii in modo da resettare il kernel e partire con una situazione pulita per i prossimi comandi che sono i più importanti di tutti con questo prossimo comando infatti andremo a verificare lo stato del disco andando ad individuare eventuali errori occulti che non dovessero essere stati correttamente evidenziati durante la fase del controllo integrità di windows che abbiamo fatto precedentemente per effettuare questa operazione ci porteremo in basso sulla lente di ricerca oppure sulla barra di ricerca ci cliccheremo su e digiteremo cmd per andare ad aprire un prompt dei comandi esattamente come vedi in questo momento tuttavia il prompt verrà aperto in modalità amministratore facendo un clic con il pulsante destro del mouse e scegliendo proprio la voce esegui come amministratore ci verrà chiesto di confermare con il pulsante si che vogliamo apportare modifiche al dispositivo e nella finestra che si aprirà andremo a digitare questo comando chk dsk spazio slash f spazio slash r non temere perché ti lascerò questo comando e tutti gli altri nella descrizione del video in modo che tu possa fare comodamente copia incolla e non incorrere in potenziali errori a questo punto premiamo il tasto invio sulla nostra tastiera confermiamo con la s di voler effettuare questo controllo e premiamo nuovamente il tasto invio ci verrà detto che il volume sarà controllato al riavvio successivo del sistema e quindi clicchiamo su chiudi per chiudere questa finestra ed effettuiamo un secondo riavvio esattamente come abbiamo fatto in precedenza appena il sistema si riavviera ci verrà chiesto di premere un pulsante per annullare il controllo cosa che non faremo in modo che il controllo parta regolarmente questo controllo durerà alcuni minuti ok ammetto di aver mentito anche perché non sono affatto certo del numero di patatine fritte che ho mangiato ma soprattutto perché l'operazione può richiedere tempistiche diverse a seconda delle dimensioni della velocità del tuo hard disk quello che però ci interessa è che con questo comando eventuali errori presenti verranno tutti riparati automaticamente senza alcun bisogno di intervento da parte dell'utente e veniamo al prossimo comando che lanceremo nuovamente nella modalità amministrativa del prompt dei comandi quindi torniamo in basso sulla barra di ricerca oppure sulla lente digitiamo nuovamente cmd come abbiamo fatto prima clicchiamo con il pulsante destro ed eseguiamo ancora come amministratore il nostro prompt dei comandi il comando che andremo a lanciare questa volta è un pochino più complicato e si scrive dism spazio slash online spazio slash cleanup meno image spazio slash restore health questo comando va ad effettuare un controllo di una particolare cartella che si trova all'interno di windows che si chiama win s x s questa cartella contiene una copia di tutti i file più importanti che compongono windows in modo tale da poterli ripristinare in caso di bisogno tuttavia alcune volte può capitare che questi file si corrompano e quindi di conseguenza nel momento in cui il nostro windows dovesse avere un qualche problema non sarà possibile ripristinarli con questo comando andremo a verificare l'integrità di tutti quanti questi file ed a scaricarli online qualora qualcuno di questi fosse corrotto aspettiamo nel termine e niente stavolta mi è andata male perché ci ho messo solo pochi secondi e non sono riuscito neanche ad alzarmi dalla sedia come vedi l'operazione di ripristino è riuscita e quindi tutti quanti i file sono stati verificati ed eventuali file danneggiati sono stati sostituiti per mezzo di copie scaricate direttamente da internet ma passiamo a questo punto al successivo comando altrettanto importante se non di più il comando possiamo digitarlo direttamente e si chiama sfc spazio slash scan una volta scritto premiamo nuovamente l'invio e attendiamone il termine che cosa fa questo comando una volta che siamo certi di avere delle copie di emergenza integre dei file che ci servono verranno verificate sia la coerenza sia l'integrità dei file di sistema di tutto quanto windows sostituendo eventuali copie danneggiate con le copie che vengono prese dalla cartella famosissima win sxs che siamo appena andati a ripristinare aspettiamo nel termine anche se temo che anche in questo caso non riuscirò a mangiare molto e niente si tratta di un video dietetico perché sono riuscito ad andare a prendere una caramella ma come previsto non ho fatto neanche in tempo a scartarla che cosa è successo però nel frattempo come vedi sono stati individuati dei file danneggiati che sono stati automaticamente ripristinati quindi a quanto pare il mio windows aveva dei problemi il mio consiglio quando dovesse verificarsi una situazione come questa è quello di ripetere ad oltranza questo comando fino a quando non ti verrà detto che è tutto quanto a posto e allora andiamo a ripeterlo e nel frattempo io mi mangio la mia caramella ok questa volta l'operazione è terminata ma tutti quanti gli errori sono stati corretti e quindi noi possiamo essere certi di avere un sistema sano e scattante ti do la mia parola che sono diversi minuti che mi sto scervellando per cercare di ricordare da quale film avevo tratto quest'ultima clip di abbattantuono ma proprio non ci riesco e quindi ti sarò particolarmente grato se me lo farai sapere nei commenti ma a proposito di ringraziamenti la nostra gratitudine quest'oggi va senz'altro a salvo d'avola per essersi abbonato al canale ed è un mio piacere e privilegio darti per questo il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini ma non è l'unico ringraziamento del giorno infatti la nostra gratitudine va anche a giuseppe capalbo e a roberto zanini per i loro generosissimi super grazie vi ringrazio infinitamente ragazzi per la vostra simpatia e per il vostro sostegno a questa community ma c'è un ultimo importantissimo ringraziamento che non può mai mancare ed è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo come di consueto non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima